Questo viaggio, tuttavia, è più importante di una nave. Mai prima di oggi l'umanità ha avuto l'opportunità e i mezzi per stabilire un primo contatto. Se noi, tutti noi, ci riusciremo per primi, avremo scritto la storia. Sentite, il nostro mondo sta morendo. È la Nightfire, è la nostra possibilità, la nostra sola possibilità di stabilire un contatto. Loro hanno imbrigliato un'energia che è enormemente superiore a qualunque cosa possiamo mai immaginare. Se stabiliremo un contatto, se loro ci aiutassero, può darsi che salveremo la nostra vita, le nostre famiglie. Sto ricevendo dei codici di errore. Al funzionamento, propulsori tu e... Aspetti! Qualcuno è entrato nel sistema. Non ho trovato l'origine. Capitano Eris, abbiamo un problema. Saprai che questi malfunzionamenti ci stanno trascinando fuori rotta. A che pensi, cara? Qualcuno ha preso il controllo. Ho a che fare con una forza che vuole fermare la missione. C'era qualcosa lì dentro. Usa i miei ricordi contro di me! Non posso farlo. Non rientreremo senza aver stabilito un contatto. Non vede cosa succede. È la nave. La nave non vuole. Andiamo là fuori. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!